10 passi per pianificare il tuo viaggio al meglio. Passo numero 1. Venuti viaggiatori, per chi non mi conosce, sono Martina, ben approdati sul mio canale, ma variotti modo, dedicato a viaggi e vacanze, oltre ovviamente all'esplorazione del mondo. Questo filmato è il primo capitolo dei 10 passi fondamentali per pianificare al meglio i tuoi viaggi. Perché si sa, organizzare un'avventura indimenticabile richiede una preparazione accurata e dettagliata. In questo capitolo cercherò di aiutarvi a rispondere alla domanda che vi dovete porre inerenti al vostro obiettivo di viaggio. Qual è lo scopo del mio viaggio? Vi propongo dunque 7 obiettivi che spero possano aiutarvi a dare una risposta a questa domanda, ma vediamo nello specifico quali potrebbero essere i tuoi obiettivi. Relax, se il tuo obiettivo principale è rilassarti e rigenerarti, potresti cercare destinazioni come spa, resort, in luoghi tranquilli o spiagge apartate. Pianifica attività che favoriscono il relax, come massaggi, yoga o semplici passeggiate nella natura, che sono sicuramente un punto fondamentale nella tua esperienza. Scegli alloghi comfortabili e strutture che offrono un'atmosfera tranquilla, che ti consigli il benessere e il rilassamento mentale. Se poi vuoi anche un'atmosfera con soli adulti, sebbene non sempre assicurato che siano meno chiassosi di gruppi familiari, potresti optare per strutture proprio adatte ad un'ecliettela esclusivamente adulta. Se la tua meta è abbandonarti al puro benessere e alla rigenerazione, allora il tuo viaggio sarà un rituale di relax in cui il tempo sembra scorrere più lentamente. La scelta della destinazione diventa fondamentale, orientandosi verso luoghi dove la tranquillità abbraccia ogni angolo. Immagina spiagge incontaminate che si estendono all'infinito, resorti incastonati in verdi oasi, di serenità o alloggi in mezzo alla natura, dove il solo suono udibile è il canto degli uccelli. Questi luoghi diventano il rifugio perfetto per chi cerca un'atmosfera di pace e armonia. La pianificazione del tuo viaggio si trasforma in una delicata sinfonia di attività che coccolano mente e corpo. Le spa diventeranno il tuo tempio del relax, offrendoti massaggi rigeneranti e trattamenti che scioglieranno ogni tensione accumulata. Gli aromi rilassanti e le melodie suffuse ti avvolgeranno trasportandoti in un mondo di tranquillità. L'itirenario si compone di esperienze che abbracciano il lato più calmo della vita. Sedute di yoga al sorgere del sole, passeggiate leggere tra i giardini profumati o lungo i sentieri tranquilli immersi nella natura, il suono del mare o il fruscio delle foglie diventano la colonna sonora della tua fuga dal quotidiano, se la sai ascoltare ad apprezzare. Gli alloggi sono come rifugi accoglienti dove la comodità e l'atmosfera rilassata si fondono per creare un ambiente idilliaco. Stanze spaziose con vista panoramica, balconi che si affacciano su tramonti infiniti o casette in legno immerse nel silenzio della campagna diventano il tuo santuario personale. La flessibilità guida la tua vacanza permettendoti di abbracciare il flusso del momento. Non c'è fretta, solo il lusso di prendersi tutto il tempo necessario per apprezzare i piccoli dettagli e assaporare ogni istante. Il relax diventa un'arte e tu sei il principale artefice. Al termine di questa esperienza tornerai a casa non solo con la pelle rigenerata ma con una calma interiore che rimarrà con te per molto tempo. I ricordi di giorni spesi in un totale relax diventano un tesoro, un porto sicuro a cui potrà rivolgerti nei momenti di frenesia della vita quotidiana. Avventura. Immagina di abbandonare la routine quotidiana per abbracciare un'esperienza di viaggio che sfida i confini della tua comfort zone. Quando l'avventura è l'obiettivo principale la pianificazione diventa un viaggio di per sé. La destinazione diventa uno sfondo dinamico per un'epica storia di scoperte e adrenalina. Inizia con la scelta di una destinazione che risvegli il tuo spirito avventuroso. Potrebbe essere un'immensa foresta pluviale, le vette dell'Himalaya o una rinomata isola tropicale o senza andare troppo lontano, mete e canto te che offrono esperienze avventurose. Ogni luogo è un palcoscenico unico per la tua avventura, offrenderti una gamma di opportunità emozionati. Il cuore pulsante del tuo itinerario è costituito dalle attività che ti fanno sentire vivo. L'ascesa su sentieri montani tortuosi, l'immersione in profondità nelle acque cristalline o forse l'esplorazione di canyon nascosti che sfidano la tua resistenza fisica. L'avventura è il filo conduttore che lega ogni giorno del tuo viaggio, una sinfonia di emozioni che ti accompagna attraverso paesaggi mozzafiato e sfide personali. Nella ricerca di alloggi scegli opzioni che amplificano le esperienze. Una casa ecologica immersa nella turra selvaggia, un'accogliente tenda sotto le stelle o un rifugio di montagna saranno il vostro punto di partenza per epiche escursioni. Oppure scegli un alloggio confortevole proprio accanto all'attività che hai scelto di fare, così che tu non debba sprecare tempo per fare ciò che veramente ti piace. L'obiettivo è immergersi completamente nell'ambiente circostante, vivendo in simbiosi con la bellezza incontaminata che ti circonda. L'itinerario dinamico è la chiave di volta di un viaggio avventuroso. Ogni giorno porta con sé una nuova sfida, un'opportunità di crescita personale e la premessa di un'emozione unica. Potresti svegliarti all'alba per un'escursione panoramica, seguita da un pomeriggio di rafting nelle rapide torrenziali, solo per concludere la giornata con una serata sotto le stelle attorno al fuoco. Nel viaggio avventuroso la flessibilità è la tua migliore compagna, consentiti di deviare dal percorso previsto, di abbracciare l'imprevisto e di lasciarti sorprendi da ciò che le destinazioni ad offrirti. Gli incontri casuali con la cultura locale, le scorperte inaspettate e i momenti di pura meraviglia contribuiscono a plasmare una storia d'avventura unica. Infine ricorda che l'avventura non termina con il ritorno a casa, resta impressa nei ricordi indelebili, nelle storie raccontate con entusiasmo e nei cambiamenti personali che solo un viaggio audace può portare. Cultura. Se il tuo desiderio è di immergerti completamente nella cultura di un luogo, il tuo viaggio diventa una straordinaria esplorazione delle radici e delle tradizioni che definiscono il popolo. La scelta della destinazione diventa un viaggio nel tempo e nello spazio, guidato dalla curiosità di scoprire il cuore pulsante di una comunità. Orientatevi verso luoghi intrisi di storia, dove le pietre antiche raccontano storie secolari e i musei sono tesori di conoscenza. Le strade stesse diventano il tuo percorso di apprendimento, conducendoti tra architetture che rarrano epoche passate. In questa avventura culturale ogni passo è una lezione, ogni angolo è un capitolo della storia locale. Il tuo itinerario è una mappa di scoperte, con musei che custodiscono opere d'arti e reperti che narrano la storia dell'uomo. Siti storici diventano finestre aperte su ere passate, dove può immergersi nella vita di chi ti ha preceduto. Partecipare a eventi locali diventa una vetrina di tradizioni autentiche. Festività colorate, cerimonie religiosi o semplici mercati diventano l'occasione di interagire con la comunità locale. Ogni festa è un'opportunità per abbracciare le diversità culturali e vivere il presente con la consapevolezza del passato. La cucina diventa un ponte diretto con la cultura locale. Sperimente sapori autentici attraverso mercati gastronomici, ristoranti tradizionali o lezioni di cucina locale. Ogni piatto è un racconto culinario che ti connette con la storia e la tradizione gastronomica della regione. Gli alloggi sono autentiche porte dell'ingresso della cultura locale. Opta per alloggi immersi nel tessuto urbano, magari bed and breakfast gestiti da famiglie del luogo. L'obiettivo è vivere come residente temporaneo, sentendoti parte integrata della comunità. La tua flessibilità nel viaggio si traduce in incontri inaspettati con persone del luogo, conversazioni spontanee con artisti di strada o l'opportunità di partecipare a attività culturali. Questi momenti sono fili che tessano il tessuto della tua esperienza culturale, trasformando il tuo viaggio in un dialogo aperto con il mondo. Alla fine del tuo viaggio culturale, torni a casa, non solo con fotografie e souvenir, ma con una comprensione più profonda del mondo e delle sue molteplici sfaccettature culturali. I ricordi sono in tessuti di incontri, racconti e l'essenza stessa delle persone che hai incontrato lungo il tuo percorso. Obiettivo gastronomico. Se il tuo desiderio è di immergerti completamente nel mondo della degustazione, il tuo viaggio diventa un'opportunità straordinaria per esplorare i sapori e le traduzioni culinarie che caratterizzano una regione, compresa la degustazione di vini e altre bevande. La scelta delle destinazioni diventa un viaggio nel regno del gusto, guidato dalla curiosità di comprendere il cuore pulsante della gastronomia locale e delle sue produzioni. Orientati verso luoghi intrisi di storia culinaria e vinicola, dove le tradizioni gastronomiche si mescolano con la produzione di vini pregiati e altre bevande artigianali. Le strade stesse diventano il tuo percorso di esplorazione, conducendo tra aziende vinicole, agricole e tant'altro, che narrano secoli di tradizioni e innovazioni. Il tuo itinerario è una mappa di degustazioni e tour, con esperienze che spaziano dalle degustazioni di vini alle visite guidate di frutteti, dai laboratori di distillazione alle degustazioni di cibi locali. Ogni assaggio è un viaggio nel gusto, un'opportunità per apprezzare le sfumature dei sapori e scoprire i segreti della produzione locale. Partecipare a eventi gastronomici diventa una ventrina di autentiche esperienze culinari e di degustazione. Degustazioni guidate, festival del cibo e del vino o semplici incontri con produttori locali diventano l'occasione per immergersi nella cultura del cibo e del vino e incontrare gli artigiani del gusto. Degustazioni guidate, festival del cibo e del vino o semplici incontri con produttori locali diventano l'occasione per immergersi nella cultura del cibo e delle bevande e incontrare gli artigiani del gusto. Ogni evento è un'opportunità per abbracciare le diversità culinarie e scoprire nuovi sapori. La gastronomia e la degustazione di vini diventano un ponte diretto con la cultura locale. Sperimenta piatti anticipi abbinati ai vini locali attraverso pranzi gourmet o visite guidate ai vigneti, frutteti o fattorie. Ogni piatto e ogni sorso sono racconti culinari e sensoriali che ti connettono con la storia e le tradizioni enogastronomiche della ragione. Gli alloggi diventano autentiche basi operative per il tuo viaggio enogastronomico. Opta per strutture vicine a luoghi di degustazione, magari boutique hotel o agriturismi immersi nella campagna. Il tuo obiettivo è esplorare il territorio e assaporare le edilizie offerte dalla regione. La tua flessibilità nel viaggio si traduce in incontri inaspettati con enologhi, sommelier e appassionati di gastronomia e di vini. Questi momenti sono i fili che intrecciano il tessuto della tua esperienza enogastronomica, trasformando il viaggio in un dialogo aperto con il mondo del gusto. Alla fine del tuo viaggio di degustazione, torni a casa non solo con il palato appagato, ma anche con una comprensione più profonda delle tradizioni culonarie, vinicole e delle sue molteplici sfrocciattature. I ricordi sono in tessuti di sapori, incontri e l'essenza stessa delle persone che hai incontrato lungo il tuo percorso enogastronomico. La giusta combinazione. Se la tua esperienza è un viaggio che abbracci un po' di tutto, la tua avventura diventa un caledoscopio di esperienze. Un mix equilibrato di relax, avventura e immersione culturale. La destinazione diventa la tela su cui dipingere, un quadro ricco di sfumature, dove ogni giorno porta con sé una nuova avventura. Inizia con la scelta di una destinazione versatile, capace di offrire una gamma completa di opportunità. Una città cosmopolita potrebbe essere il punto di partenza ideale, con la sua combinazione di spa lussuose, musei d'arte e parchi avventurosi. Un luogo costiero potrebbe offrire spiagge rilassanti, escursioni paranamiche e vivaci mercati locali. La pianificazione diventa un'arte, con giorni dedicati al puro relax, visite a spacche coccolano corpo e mente e lunghe passeggiate su spiagge dorate diventano l'antipasto perfetto per il tuo viaggio. Un'occasione per lasciare che lo stress si sciolga e per ricaricare le energie. Man mano che il viaggio prosegue, il tuo itinerario si trasforma in una serie di sfide avventurose, trekking su sentieri panoramici, sport acquatici emozionanti o forti emozioni come il parapendio. Diventano il cuore pulsante della tua avventura. La varietà di attività è la chiave, permettendoti di sperimentare la diversità di un luogo. L'immersione culturale è la ciliegina sulla torta. Visita musei e siti storici, partecipazioni e eventi locali e degustazioni di cucina autentica arricchiscono il tuo viaggio con la profondità di una comprensione culturale. Gli incontri con la gente del posto diventano opportunità per connettersi con la vita quotidiana e per scoprire la vera essenza del luogo che stai visitando. Personalizza il tuo itinerario in base ai tuoi interessi. Se ami l'arti, dedica più tempo ai musei e alle gallerie. Se sei un appassionato di avventura, focalizza il viaggio su attività che accelerano il tuo battito cardiaco. La flessibilità è la chiave, consentendo di seguire il tuo istinto e di abbracciare ogni opportunità che si presenta. E non dimentichiamo il tuo palato, perché, sebbene potrebbe non essere la tua priorità, il gusto ed i sapori sono parte integrante di un viaggio, per conoscere ed apprezzare, o meno, la cultura locale attraverso cibi e bevande. Quindi, ogni volta che ti capita la possibilità, degusta prodotti locali e scopri nuovi gusti, anche se questi possono non attirarti, perché potresti avere delle inaspettate sorprese. Al termine del tuo viaggio eclettico, porterai con te una collezione di esperienze uniche. I ricordi saranno un mix di momenti di relax, emozioni, avventurose e incontri culturali. Il tuo viaggio diventerà un racconto poliedrico, un capitolo indimenticabile della tua storia di viaggio. Obiettivo di studi Se il tuo obiettivo è un viaggio di studio ed apprendimento, ogni spostamento diventa un'opportunità per esplorare nuove conoscenze e approfondire le tue competenze in un ambiente diverso dal solito. La scelta della destinazione non è solo una questione di logistica, ma anche di ricerca e scoperta di risorse educative uniche e stimolanti. Orientati verso luoghi che rappresentano centri di eccellezza nel campo che stai studiando, dove le istituzioni accademiche sono rinomate e le risorse didattiche sono al passo con le più recenti scoperte innovazioni. Le strade diventano i tuoi sentieri per l'arricchimento intellettuale, conducendoti tra biblioteche, laboratori e centri di ricerca che nutrono la tua sete di conoscenza. Il tuo itinerario è una mappa di lezioni e seminari con docenti che condividono le loro esperienze e colleghi che offrono nuove prospettive. Le visite a istituti accademici e aziende diventano opportunità per immergersi nella cultura dell'apprendimento locale e comprendere le sfide e le soluzioni del settore che stai studiando. Partecipare a conferenze, workshop e incontri di studio è fondamentale per ampliare i tuoi orizzonti e confrontare le tue conoscenze con quelle di altri esperti nel campo. Ogni occasione di apprendimento è un'opportunità per arricchire il tuo bagaglio culturale e professionale e per creare legami con persone che continuino le tue stesse passioni e interessi. La gastronomia non è solo una questione di gusto ma anche un modo per esplorare la cultura locale e arricchire la tua esperienza di viaggio. Pause pranzo, cene informali o semplici degustazioni diventano momenti per socializzare e condividere idee con colleghi e nuovi amici creando legami che vanno al di là dell'ambito accademico. Gli alloggi diventano i tuoi rifugi durante il viaggio di studio. Opta per sistemazioni confortibili e ben collegate alle strutture didattiche e ai luoghi di interesse del tuo programma di studio. Magari potresti trovare alloggi condivisi con altri studenti o abitanti del luogo che ti aiuterà ulteriormente ad integrarti e soprattutto se stai apprendendo la lingua proprio in questo processo. L'obiettivo è massimizzare il tempo a disposizione per l'apprendimento garantendo al contempo un ambiente accogliente dove poterti rilassare e concentrare sulle tue attività. La tua flessibilità nel viaggio si traduce in incontri inaspettati con studiosi e esperti del luogo, conversazioni che arricchiscono la tua comprensione del soggetto che stai studiando e che ti ispirano a esplorare nuove direzioni di ricerca. Ogni intenzione diventa un'opportunità per approfondire le tue conoscenze e ampliare il tuo orizzonte intellettuale. Alla fine del tuo viaggio di studi torni arricchito non solo delle lezioni e dai materiali didattici ma anche dalle esperienze condivise con nuovi amici e colleghi. I ricordi sono intessuti in momenti di scoperta, di illuminanti dibattiti e dell'essenza stessa delle persone che hai incontrato lungo il tuo percorso di apprendimento. Ovviamente non dovrai dimenticare che per imparare non vi è solo lo studio ma anche il divertimento è la scoperta del luogo quindi integra anche visite dei luoghi, serate con nuove conoscenti o proprio per conoscere nuove persone, attività sportive e tutto quello che più ti interessa perché anche questo è un arricchimento per il tuo scopo imparare e crescere mentalmente. obiettivo d'affari. Se il tuo obiettivo è un viaggio d'affari, sia che tu vada alla ricerca di un nuovo lavoro o che tu ti sposti per un impegno di lavoro prefissato, ogni viaggio diventano opportunità per esplorare nuovi orizzonti professionali e cogliere le sfide e le opportunità che caratterizzano il mondo lavorativo in diversi regioni. La scelta della destinazione non è solo una questione di logistica ma anche di strategia e di approfondimento delle dinamiche economiche locali. Orientati verso luoghi che rappresentano punti focali per il tuo settore o più vicini alle attività che dovrai svolgere. Le strade diventano i tuoi corridoi per l'espansione delle tue reti di contatti e per l'assimilazione delle migliori pratiche di settore. Il tuo itinerario è una mappa di appuntamenti e incontri d'affari con riunioni che delineano strategie aziendali oppure nuovi posti di lavoro. Le visite a sedi aziendali diventano opportunità per immergersi nella cultura imprenditoriale locale e comprendere la peculiarità del mercato in cui operi. Partecipare a eventi professionali è fondamentale per mantenere il passo con le ultime tendenze del settore e per stringere le azioni con colleghi e potenziali partner. Conferenze, workshop e fere commerciali sono occasioni uniche per arricchire la tua esperienza e rafforzare le tue opzioni nel mercato globale. La gastronomia non è solo un piacere ma anche un'opportunità per socializzare e considerare le azioni lavorative. Pranzi di lavoro, cene aziendali o semplici pause e caffè diventano momenti preziosi per discutere progetti e condividere idee, creando legami professionali che vanno oltre il semplice ambito lavorativo. Gli alloggi diventano le tue basi operative durante il tuo viaggio d'affari. Scegli strutture comode e funzionali, preferibilmente vicine ai luoghi chiave delle tue attività che devi svolgere. L'obiettivo è massimizzare il tempo a disposizione, garantendo allo stesso tempo un ambiente confortevole dove riposare e rigenerarsi per affrontare al meglio le tue sfide professionali. La tua flessibilità nel viaggio si traduce in incontri inaspettati con professionisti del luogo, scambi di conoscenze ed esperienze che arricchiscono il tuo bagaglio professionale. Ogni interazione diventa un'opportunità per apprendere e crescere nel tuo settore, trasformando il viaggio d'affari in un'esperienza formativa stimolante. Alla fine del tuo viaggio di lavoro, torni alla tua base con nuove idee, prospettive e connessioni che arricchiscono il tuo percorso professionale. I ricorsi sono intessuti in incontri produttivi, obiettivi raggiunti e l'essenza stessa delle persone che hai incontrato lungo il tuo cammino lavorativo. E qui arriviamo alla conclusione del primo capitolo, inerente alla pianificazione per un viaggio perfetto. Gli obiettivi trattati sono solo alcuni e ovviamente potrebbero esservene altri più specifichi. Vuoi quale scegliete solitamente per le vostre avventure? Fatemelo sapere nei commenti o rispondete al sondaggio pubblicato nella sezione community. Aspettandovi per il prossimo capitolo, dove tratterò il tema di fissare una data e la durata del tuo viaggio, vi saluto e vi auguro un'ottimale pianificazione. A presto, Martina! E mi raccomando, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perderti, neppure mi ho filmato!